in base al regolamento la faccia allontanare la rara spegne il microfono sta completando l'intervento in offide chiude il microfono altrimenti la faccia allontanare entrati in aula vergognatemi e ho chiesto la verifica del numero legale è sempre prego avvocato proseguo proseguo è vietato non vuoi ho chiesto il numero legale completare l'intervento come si permette chi è il suo po avvocato la rara segnirate il cliente vedete cosa succede chiama i carabinieri chiama chiama concluda avvocato concluda e poi proseguiremo